ciao ragazzi ciao ragazzi bentornati sul mio canale allora oggi vi voglio mostrare come è semplice e veloce fare delle chips di formaggio in casa da insomma utilizzare per un aperitivo così come stuzzichino è davvero molto molto semplice quello che vi occorre è una teglia con della carta forno messa appunto sopra io preferisco utilizzare questa quadrata perché poi mi viene bene per tagliarlo successivamente vi servirà del pepe e dell'olio extravergine d'oliva è una busta di formaggio grattugiato pensa che tutti in casa abbiamo del formaggio grattugiato io utilizzo questo mix grattugiato fresco della lidl che ho preso alla lidl e adesso vi faccio vedere come vengono buone queste chip di formaggio allora quello che dovete andare a fare è mettere il formaggio sulla teglia in questo modo andando a creare aiutando poi con le mani uno strato quindi andate proprio a coprire tutta la vostra teglia naturalmente potete utilizzare qualsiasi recipiente che vi trovate rettangolare rotondo quadrato io preferisco questo quadrato perché quando poi vedrete appunto alla fine il risultato vi renderete conto più facilmente di quanto sia ecco più semplice poterlo tagliare in una teglia quadrata andate appunto a pressare in questo modo cercando di non lasciare spazi infatti andrò aggiungere ancora un po di formaggio qui ok in questo modo è un altro pochi perché mi sembra un po vuoto naturalmente lo potete fare a base di parmigiano a base di formaggio piccante oppure un misto di formaggi come questo allora questo è esattamente lo strato che deve avere il vostro formaggio messo in teglia sarà davvero un centimetro poi prendete il pepe e fate così io utilizzo sempre questo già pronto che sono dei granelli di pepe nero un filino d'olio extravergine da così ok e poi un attimo che prende sale un pizzico di sale così viene abbastanza gustoso ok prendete la teglia naturalmente preriscaldate il forno un sette dieci minuti e lo mettete nel vostro forno il mio è già acceso perché non preparato poco fa le zucchine lo andate a mettere in forno più o meno a questa altezza e tra circa dieci minuti un quarto d'ora vedrete che è inizierà dapprima a sciogliersi per poi indurirsi nuovamente quindi andare a formare proprio come se fosse un craggers gigante di formaggio più avanti vi farò vedere il procedimento a dopo allora ragazze questo è il risultato finale come vedete un vero e proprio craggers e adesso non resta che tagliarlo a quadratini o se si riesce a dare delle forme un po più particolari come triangolo per realizzare le vostre chips potete utilizzare le mani e potete utilizzare anche le forbici io utilizzo le forbici e man mano naturalmente se si rompe pazienza e gli date la forma che prende quindi facciamo così possiamo fare anche dei triangoli e li potete mettere nella vostra ciotolina per un aperitivo per uno stuzzichino vengono degli amici all'improvviso e non vi trovate le patatine non avete salatini tutti bene o male abbiamo del formaggio in casa e quindi potete realizzare le vostre chip di formaggio che credetemi sono una bontà ecco qui le vostre chip potete utilizzare della salsa della maionese del che già può semplicemente mangiarle così al naturale spero che questa ricetta vi sia piaciuta semplicissima velocissima in forno sono stati 10 minuti 10 12 minuti vi ho fatto vedere nella clip che dapprima cominciava diciamo a sciogliersi il formaggio quindi proprio a fondersi per poi creare appunto questa questo unico crackers chiamiamolo così di di formaggio io vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo alla prossima ciao